Oggi prenderemo in esami i segni del risveglio e della riforma, cioè del modo in cui possiamo riconoscere la signoria di Dio sulla nostra vita. Sin dall'inizio era fondamentale che gli esseri umani riconoscessero chiaramente chi dovevano considerare come padrone e signore. Dio aveva stabilito dei segni di proprietà e autorità per i nostri progenitori. Per questo motivo riconoscere l'autorità di Dio è rimasto un elemento essenziale per i credenti di tutte le generazioni. L'Apostolo Paolo presenta l'autorità come condizione di salvezza perché, dice, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Riconoscere Gesù come Salvatore e Signore è essenziale per la salvezza. Gesù, il Signore, spiega che l'autorità è molto più che una confessione verbale. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. L'autorità deve essere riconosciute con azioni concrete e tangibili. In che modo dimostriamo che Dio è il Signore? In due dimensioni fondamentali della vita, il tempo e lo spazio. Fin dall'inizio il sabato è stato un segno dell'autorità di Dio sul tempo. Santificate i miei sabati e siano essi un segno fra me e voi, dal quale si riconosca che io sono il Signore e il vostro Dio. Gli indicatori per riconoscere la sua autorità sullo spazio, il mondo materiale, secondo il profeta Malachia, sono invece le decime. Portate tutte le decime alla casa del tesoro perché ci sia cibo nella mia casa. Ellen White in proposito scrive, Dio ci chiede di riconoscerlo come proprietario e per questo motivo dice, di tutto ciò che possedete mi riservo la decima parte e inoltre doni e offerte che dovete portare nella mia casa. Il segno nello spazio comprende tre elementi, decima, doni e offerte. La decima è il 10% delle nostre entrate. I doni sono regali speciali. Le offerte sono un riconoscimento sistematico e in proporzione alle benedizioni ricevute. Ellen White stabilisce un parallelismo tra l'osservanza del sabato e la restituzione della decima. Dio ha santificato il settimo giorno. Questa parte specifica del tempo, accantonata da Dio stesso per l'adorazione religiosa, continua oggi, ancora, ed è sacra, così come fu santificata per la prima volta dal nostro creatore. Allo stesso modo, una decima delle nostre è entrata e santa davanti al Signore. A Dio non appartiene solo il settimo giorno. Quando restituiamo la decima e presentiamo i nostri doni e le nostre offerte, ricordiamo e riconosciamo che tutti i nostri beni e il mondo materiale gli appartengono. Dio ha sempre chiamato il suo popolo al risveglio e alla riforma. Il risveglio è un invito a voltare le spalle agli dei stranieri e a riconoscerlo come l'unico Dio della loro vita. Al di fuori dei libri di Mosè, i riferimenti al sistema della decima sono strettamente correlati al contesto del risveglio della riforma. Il profeta Malachia vive in un tempo di apostasia e nel suo libro presenta la situazione in cui versava il popolo. Egli chiede, un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto. Il problema principale era la mancanza di riconoscimento di Dio come maestro, come signore. E per questo motivo Dio rivolge al popolo un appello al risveglio. Fin dal tempo dei vostri padri voi vi siete allontanati dai miei precetti e non le avete osservate. Tornate a me e io tornerò a voi. Dopo aver ascoltato Dio, il popolo pone una domanda pertinente. Ma voi dite, in che modo dobbiamo tornare? Prima di rispondere alla domanda, Dio ricorda al popolo in che modo si sono allontanati da Lui. L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. In altre parole Malachia dice avete rubato a Dio l'onore che gli spettava in quanto signore. La conversazione di cui ci viene riferito in Malachia si conclude con un appello. Portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il signore degli eserciti. Vedete se io non vi aprirò le catteratte dei cieli e non riverserò su voi tanta benedizione che non vi sarà più dove riporti. Il processo di risveglio e riforma al libro di Malachia può essere riassunto in tre fasi. La denuncia dell'apostasia, un appello al ritorno di Dio e una modalità corretta in cui produrre una riforma compresa la restituzione della decima e delle offerte. Questo messaggio si è radicato nella chiesa e nel mio cuore? In questo momento il popolo di Dio riconosce l'autorità e la sua signoria? Un modo pratico per farlo è restituire fedelmente la decima e presentare offerte adeguate. E' così che gli viene riconosciuto l'onore che gli è dovuto. Finisce qui la nostra settimana di riflessione sulla gestione cristiana della vita. Se questi momenti di meditazione e queste proposte sono state un'ispirazione per il quotidiano, se hai previsto fra i tuoi impegni di iniziare la giornata comunicando con Dio nella preghiera e nello studio della sua parola, il programma di meditazione quotidiana e apri la porta del tuo cuore, continua ad offrirti un'opportunità per proseguire il percorso. Se il video di approfondimento abbinato al testo da scaricare sul sito è stato utile per te e per la tua comunità, dall'8 al 18 gennaio 2020 ti proponiamo di seguire i 10 giorni di preghiera presentati nelle stesse modalità da un pastore diverso ogni giorno. Il Signore ti accompagni nella gestione cristiana della tua vita. Ci vediamo a gennaio.